Ritengo di essere vittima di una trama agita da alcuni poteri forti, ma non intendo mollare la presa. Lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta, in merito alla sua esclusione dal voto su Rousseau per la scelta dei facilitatori 5 Stelle. Ribadisco il mio convincimento nei valori fondanti il movimento delle origini ed intendo continuare la mia battaglia civile e politica, forte anche del sostegno di migliaia di attivisti e sostenitori, ha aggiunto Trenta, la quale ha appreso questa mattina dal blog delle stelle che la candidatura facilitatore del Movimento 5 Stelle per l'area sicurezza e difesa non è stata ammessa alla votazione sulla piattaforma Rousseau, per ignote ragioni. E, incredibilmente, non è stata fornita alcuna spiegazione, e questo episodio conferma le perplessità su alcuni processi decisionali dei vertici del movimento. Ha spiegato l'ex ministra.